questo è quello che voglio dire quando qualche volta non siamo in grado di vedere quello che accade proprio davanti ai nostri occhi a causa della dissonanza cognitiva mi è stato detto da diverse persone che il centro della rotazione è in questo video e voglio vederlo insieme a voi per mostrarvi che non è il caso un attimo che vado a silenziarlo qui stiamo vedendo la rotazione fatta con il mio iphone di un tavolo rotante ok perfettamente in piano un tavolo perfettamente rotondo che gira dove non mi muovo per niente e riusciamo a vedere le stelle che entrano dentro nella parte in basso dell'inquadratura qui sotto ok le persone dicono il centro della rotazione qui no il centro della rotazione fuori dall'inquadratura completamente e sarà sempre così ragazzi si vedono sempre le nuove stelle che si muovono dentro questa inquadratura e che girano attorno e queste stelle che sono sopra la rotazione alla fine finiscono sotto fuori dall'inquadratura se continuiamo ad osservare la rotazione il centro della rotazione è fuori dall'inquadratura non c'è il centro della rotazione dentro all'inquadratura tutte le nuove stelle arrivano dentro e tutte le altre stelle finiscono fuori ok osservate questo è il centro non è questo finisce fuori e durante la rotazione completa questo arriva in su e può sembrare ingannevole se non fate attenzione questa è la cosa sembra che le persone non facciano attenzione a quello che vedono veramente se girassero sul fianco di un globo guardando alle stelle che cosa vedreste veramente questo esattamente quello che vedreste e qui ecco la cosa gente quando guardate un video in time lapse della stella polare e di come in realtà ruotano le stelle vi linko questo video la stella polare non è al centro dell'inquadratura il solo modo per avere il movimento della stella polare come qui è puntare la stella polare al centro solo se puntate la stella polare al centro dell'inquadratura potrete ottenere la rotazione da tutte le parti anche se torcete le lenti dalla vostra macchina fotografica ma la stella polare deve trovarsi esattamente al centro per ottenere questo la stella polare non ha bisogno di essere al centro quando la filmo o quando la fotografo posso scattare una fotografia della stella polare con i movimenti attorno ad essa da ogni angolatura perché sto guardando la stessa rotazione questo è il fatto continuerei a ruotare sulla terra nello stesso modo essendo in grado di puntare la mia macchina fotografica in alto in basso all'intero movimento attorno alla stella polare se punto in alto sarò in grado di vedere la parte superiore dentro la rotazione se punto nel mezzo dovunque si trovi la stella polare vedrò l'intero movimento attorno alla stella polare se punto in basso vedrò la parte in basso del movimento attorno alla stella polare così posso fotografare ogni singolo elemento di questi semplicemente alzando la mia macchina fotografica in su o in giù quindi quello che significa è molto semplice e chiunque ha una mente che sa contare uno due tre o sa dire abc è in grado di dire sì è ovvio che il movimento accade nel cielo sì siete d'accordo